Buonasera, io sono Valentina della Biblioteca Nova Isolotto, qualcuno di voi già è utente della biblioteca quindi ci conosce. Allora oggi ho il piacere di presentare, anzi ripresentare perché è un nuovo ciclo del progetto Tandem, due libri a confronto. Ci fa molto piacere che oggi ricomincia il ciclo in presenza perché fino adesso, quando il precedente ciclo era stato fatto solo online, nel periodo delle chiusure per la pandemia in cui era difficile fare qualsiasi cosa, in presenza il ciclo si era già tenuto online. Quindi oggi abbiamo finalmente il piacere di vederci in presenza. Io innanzitutto vi dico qualche parola su Tandem che è appunto un progetto ideato e curato da Simone Pagliai, che ringrazio, e è un ciclo di conversazioni nelle quali i due libri sono messi a confronto e di questi libri messi a confronto parla di volta in volta uno studioso, ricercatore, ricercatrice. Oggi abbiamo con noi la professoressa Michela Landi, docente di letteratura francese all'Università di Firenze e ci parlerà dei libri Giulia o la nuova Eloisa di Jean-Jacques Rousseau e delle relazioni pericolose di De La Clou. Quindi do di nuovo il benvenuto e ci tengo particolarmente a ringraziare innanzitutto la Simone Pagliai, ovviamente, la professoressa di nuovo Michela Landi e sicuramente l'associazione Semicerchio, che è una prestigiosa rivista di letteratura comparata, e l'associazione Liberamente Pollicino, che è l'associazione di amici della biblioteca, per la loro collaborazione. In particolare oggi con noi ci saranno Edi e Cristina del gruppo di lettura a voce alta che ci leggeranno alcuni brani inframezzandosi alla discussione che Simone Pagliai avrà con la professoressa Landi. Quindi io ovviamente ringrazio anche l'associazione Dei Ranti e il quartiere 4 per la diffusione dell'evento e per l'interessamento. Un saluto anche da parte del responsabile della biblioteca Emiliano Rolle, che oggi purtroppo non è potuto essere con noi. Quindi io non rubo oltre il vostro tempo e do la parola a Simone. Benvenuti, buona serata. Grazie Valentina, grazie alle elettrici dell'associazione a voce alta, grazie a Michela Landi dell'Università di Firenze, come ha detto Valentina, che oggi ci parla di questi due libri. Anzitutto Michela, una notazione sul titolo di questo incontro. Gli incontri di tandem hanno tutti un titolo che riassume un po' qual è il senso del paragone tra i due libri. Oggi parliamo delle relazioni pericolose di Laclau e di Giulia, la nuova Luisa di Rousseau e il titolo dell'incontro è L'amore e istruzioni per l'uso, che è venuto quasi per caso, per una, diciamo per collegamenti non così ovvi con questi libri, però come spesso succede, ha assunto un senso abbastanza pregnante, quindi lo puoi spiegare forse tu meglio di me. Sì, innanzitutto grazie per avermi invitata, come lo scorso anno, così per dare una continuità a questo percorso che mi sembra molto bello. Come sa Simone Pagliai, questa sua idea di tandem, ma io l'ho condivisa sin dall'inizio perché rispecchia anche un pochino il mio modo di insegnare, mettendo a confronto dei testi e quindi creando una dialettica tra due testi attraverso costanti e varianti, quindi punti di differenza, ma anche punti di incontro tra due testi che abbiano comunque qualche elemento in comune e che permettono a partire da questo elemento in comune di costruire, diciamo, anche un sistema di differenze. Quindi l'idea del titolo in effetti è nata quasi casualmente per, diciamo, un richiamo mnemonico con la vita a istruzioni per l'uso di Georges Perec, ma alla fine ha trovato un senso, come ricordava Pagliai, perché l'amore nell'ancien régime, quindi nel periodo che precede, diciamo, in Francia la rivoluzione, come dire, è un codice molto stringente che richiede un savoir-faire, richiede un saper governare l'amore. L'amore non è come noi oggi tendenzialmente pensiamo, perché siamo eredi un po' del romanticismo, uno spontaneismo, non è natura, è un codice. Pensiamo, diciamo, ai trovatori, pensiamo a tutta, diciamo, l'amore cortese e poi l'amore nelle corti nasce come un codice di comportamento molto rigoroso, proprio perché nasce dentro le corti. L'amore è un privilegio per chi vive dentro la corte. Poi con il romanticismo, come dire, l'idea dell'amore si democratizza, diventa qualcosa per tutti e allora nasce l'idea della spontaneità, l'idea della naturalezza, l'idea della sincerità, lo vedremo proprio oggi con Rousseau. E quindi istruzioni per l'uso naturalmente è, se vogliamo, un po' provocatorio come titolo, ma risponde a una realtà storica, soprattutto francese, legata al fatto che, pensiamo anche al dolce stile nuovo, no? L'idea della donna angelicata. L'amore è un codice, è un codice di comportamento che richiede un modo di essere e richiede anche una negoziazione tra un narcisismo della persona amata e l'altro, diciamo, una negoziazione tra le due persone, tra due, come dire, sentimenti. Talvolta c'è, come dire, una difficoltà di interazione, è tutto un gioco di specchi, di rispecchiamenti, di rifiuti, di rinunce, di difficoltà a dire, quindi perifrasi, lo vediamo per esempio nelle relazioni pericolose. Quindi l'amore non è una cosa semplice, come ci dice anche la psicanalisi, è il più raffinato, è il più complesso dei sentimenti, perché c'è in gioco l'eros, c'è in gioco il desiderio e anche la legge che in qualche modo con il desiderio si deve interfacciare. E quindi la letteratura non assume l'amore come un principio appunto naturale, altrimenti ci sarebbe ben poco da dire. L'amore ha una grande complessità e questa è la ragione per la quale la letteratura si, in larga parte, diciamo, si innesta su questo grande tema dell'analisi psicologica dei personaggi. E quindi questa è un po' la ragione per cui abbiamo proposto questo titolo, che era per prendere le distanze anche storicamente dall'idea romantica dell'amore come primitivo, come naturale, come spontaneo. L'amore è culturale, è fatto, diciamo, costruito su un codice di comportamento che è spesso storico, nel caso di cui parleremo oggi. Sì, poi l'amore e istruzioni per l'uso in realtà è abbastanza fortunata la coincidenza, perché a parte tutto quello che ci hai detto, la mia impressione leggendo questi due libri è stata anche che, al di là di quello che ci hai detto, ma istruzioni per l'uso che si imparano e tramite le istruzioni dell'amore si impara una società, una prospettiva sulla società. Come dicevi, l'amore è stato visto per secoli in una maniera differente da come in media lo vediamo oggi, cioè sostanzialmente come un sentimento, ma in realtà questi due romanzi parlano di diverse dinamiche amorose in diversi modi, ma parlano anche di una società, di un progetto di società anche, perché sono due libri che precedono di poco la rivoluzione in francese e sono scritti da due autori, poi ce ne parlerai, molto interessati per esempio alla pedagogia, alla riforma delle abitudini sociali, entrambi seppure in forme differenti e quindi l'amore istruzioni per l'uso forse anche in questo senso. Un altro tratto comune peraltro di questi due romanzi è che sono entrambi due romanzi epistolari, che ha una forma molto particolare, due romanzi quasi contemporanei, perché mi sembra che Giulia la nuova Loisa di Rousseau è stato scritto forse negli anni 60 del 700, mentre Le relazioni pericolose una ventina d'anni dopo. Due parole se puoi, se credi, su questi due autori, così differenti anche come fortuna e come tipo di fortuna e come fama, come notorietà in diversi ambienti. La Clos forse più oscuro come scrittore, ma poi famosissimo grazie agli adattamenti cinematografici e soprattutto delle relazioni pericolose. La decisione anche di scegliere questi due romanzi è dovuta, come si diceva, a degli aspetti in comune, degli aspetti che divergono, quindi c'è un punto in comune, questa è la ragione per cui l'ho proposto, è che alla fin fine la Clos si ispira a Rousseau, quindi Rousseau è il suo modello principale che poi viene in qualche modo rivisitato. C'è chi dice che la Clos riprende Rousseau in una chiave positiva, nel senso che vuole mostrare naturalmente la perversione amorosa e anche la punizione, diciamo, della protagonista, la marquise de Merteil, che infine viene appunto punita per il suo, diciamo, il modo con cui raggira, chiamiamolo pure raggiro, tutta questa società dalla quale lei vuole trionfare, quindi poi c'è la punizione del colpevole e quindi c'è chi lo legge in senso edificante attraverso questa punizione, diciamo, della colpevole, c'è invece chi invece mette l'accento sul rovesciamento della visione edificante proposta invece da Rousseau. C'è da dire, come ricordava Pagliai, che effettivamente si tratta di due autori molto diversi tra loro proprio per formazione, perché Rousseau, cominciamo in ordine cronologico, la novella Eloise è del 61 e Rousseau, nel momento in cui scrive la novella Eloise, siamo 61-62, sono gli anni in cui scrive il contratto sociale, quindi un'idea di società che è diventato, come dire, un modello per il contrattualismo, quindi per, diciamo, l'idea di una società costruita su un accordo tra gli uomini e non più per la volontà di un tiranno, ma sulla base di un contratto sociale appunto per il quale ciascuno rinuncia a una parte di libertà per una sicurezza collettiva, quindi un'idea di società che si ritrova proprio nella novella Eloise e che in qualche modo sostituisce l'amore egoistico della coppia iniziale, quindi l'amore egoistico, tra virgolette egoistico, perché l'amore di due giovani, di due fanciulli, diciamo, innocenti, che però è destinato a costruire un altro tipo di amore, che è un amore sociale. L'amore, diciamo, la filia, a un certo punto lei dice il nostro amore è finito, adesso dobbiamo cominciare a vivere insieme in modo sociale, costruire una società in cui tutti si amano secondo quel criterio che si chiama filia, cioè l'amore e amicizia. Tutti si vogliono bene, si rinuncia all'eros per costruire una società armonica e questo quindi ritorna il grande tema del contratto sociale. Quindi abbiamo dapprima questa sorta di egoismo amoroso di due giovani che nasce da un'idea di formazione, quindi la Foro, Saint Preux, ricordiamolo, è il precettore di Giulia, che viene, per volontà della madre, viene, diciamo, incaricato di fare da precettore privato di Giulia e sul modello di Abelardo e de Loisa, che sono i due amanti, diciamo, così noti nella storia letteraria, a partire da Pop, tra la storia e la leggenda, quindi Loisa nella tradizione medievale è l'allieva di Abelardo, Abelardo grande oratore, corrompe Loisa perché la desidera, perché lei è bella, la storia finisce, ahimè, male, con l'everazione di Abelardo e poi il ritiro reciproco dei due amanti in due rispettive, diciamo, conventi. E questa storia così dolorosa che poi avrà un grande ritorno nel, diciamo, all'epoca moderna da Pop che scrive un poema su Eloisa e Abelardo, poi la novella Eloise di Rousseau che rivisita questo tema dei due amanti, ma lo rivisita in una chiave, appunto, societaria. Quindi non c'è la chiusura e la fine tragica, ma c'è una sostituzione di sistema, chiamiamola così. Questi due amanti devono in qualche modo abbandonare il loro desiderio per dar luogo a questa buona società costruita sulla trasparenza degli uomini. E questa è la grande idea di Rousseau, è costruire una società in cui tutti gli uomini siano trasparenti l'uno all'altro, non ci sia più l'ipocrisia. Questo è il suo grande mito sociale, che ciascuno cede qualcosa del proprio individualismo per costruire una grande società fatta di rispecchiamento di tutti gli uomini con se stessi. E quindi all'interno di questo progetto di società ci sta anche l'educazione. E quindi abbiamo parlato dell'educazione, entrambi gli autori si sono occupati di educazione. Abbiamo detto nel 62 Rousseau pubblica l'Emilio, che è un'altra opera fondativa della modernità in termini di educazione, perché l'Emilio propone un tipo di educazione che non è più quella tradizionale, come dire, coercitiva, ma è invertito a questa idea tradizionale coercitiva, viene sostituita dall'idea dell'accompagnare il bambino, secondo natura, a rispettare le sue inclinazioni naturali. Se nonché questo progetto che ha rinnovato in modo radicale il concetto di educazione, presuppone, come dire, un'idea di natura piuttosto soggettiva di Rousseau, secondo la quale, come dire, il fanciullo cresce, diventa uomo, la bambina, che si chiama Sophie, Emil e Sophie, la bambina diventa donna ma deve sottomettersi all'uomo, perché secondo lui nella natura l'uomo è più forte e quest'idea naturalistica si proietta anche sull'educazione, perché un'educazione secondo natura fa sì che la bambina deve rispettare la sua funzione diciamo subalterna rispetto a Emil, Emil sarà l'uomo e lei sarà l'ornamento dell'uomo. Questo secondo una tradizione diciamo borghese ma anche protestante, secondo cui gli uomini stanno da soli e le donne stanno da sole, quindi c'è questa suddivisione dei ruoli, per cui si è sempre detto che Rousseau in fondo è un maschilista, perché secondo lui quest'ordine naturale ha una ripercussione sull'educazione. Molto diverso è curiosamente la visione di Laclos, perché Laclos anche per esperienza personale, perché mentre Rousseau ha vissuto diciamo un po' tutta la sua vita in un ambiente naturalistico e vive dentro la natura e ama circondarsi della natura, quindi fugge dalla società per stare dentro la natura ed essere accolto da questo grembo diciamo della natura, viceversa Laclos ha fatto una vita del tutto diversa, che è quella della vita di Guarnigione, faceva parte diciamo della nobiltà di Toga, quella nobiltà che si acquistava per essere ufficiali, per diciamo vivere all'interno dell'ambito bellico, ha seguito il duca di Orléans, diciamo si è trovato in mezzo alla rivoluzione cercando di starne fuori in qualche modo, di trovare la sua posizione diciamo tra questa nobiltà diciamo di mezzo e il mondo repubblicano, poi quando il duca di Orléans è stato ucciso, lui alla fine tra virgolette si ricicla, va con Napoleone, Napoleone lo porta nelle guerre d'Italia, lo porta con sé e morirà di disenteria a Taranto nel 1803, quindi chiude la sua vita sempre dentro una situazione militare, quindi siamo in un ambiente esattamente opposto se vogliamo a quello di Russo, Russo vive immerso nella natura, nella pace o comunque vuole costruirsi questo mondo di pace fuggendo dalla civiltà che malvagia, fondamentalmente corruttrice, mentre Laclau vive in un ambiente bellico, suo padre, anche suo padre era un ufficiale, lui vive in guarnigione, si occupa di balistica perché cerca di, deve costruire i fortini, deve cercare di diciamo combattere, siamo nel periodo della guerra dei sette anni, quindi in qualche modo la sua funzione è sempre una funzione militare, quindi vive dentro il mondo militare, lo conosce a perfezione e guarda caso il romanzo è costruito su una guerra d'amore, quindi da un lato abbiamo l'idea di una pacificazione con Russo, questa società pacificata, armoniosa, in cui tutti sono trasparenti l'uno all'altro, nell'altro invece c'è una guerra d'amore in cui tutti si sfuggono, in cui trionfa diciamo la capacità strategica di governare sull'altro, di esercitare un potere sull'altro, quindi è diciamo un grande sistema se vogliamo perverso in cui il più forte, colui che maneggia bene lo strumento del linguaggio, vince sul più ingenuo che invece subisce. Questa è la ragione per cui ci sono due correnti interpretative sulle liaisons dangereuses, quindi sui legami pericolosi, una che dice va in senso russoiano e vedremo perché, perché appunto Laclau è un grande ammiratore di Rousseau e dall'altra invece viene visto questo romanzo come una, come dice Rousse, una Eloisa rovesciata, in una chiave negativa. Quindi ci sono queste due correnti interpretative proprio perché si può leggere in due modi, da un lato questa Eloisa rovesciata in senso malvagio, la Marchesa di Mertei sarebbe una sorta di anti-Eloisa e dall'altra però siccome la Marchesa per il suo modo di costruire questi, come dire, questi legami perversi e quindi di pervertire le persone più spontanee, più innocenti, come appunto Cécile Volange che è appena uscita dal convento, quindi è una sorta di Sophie, se vogliamo, alla Rousseau che però viene appunto, entra nel potere di questa donna che per vendicarsi dell'uomo a cui lei è promessa, si in qualche modo gioca con questo corpo giovane e esercita, diciamo, il suo potere su di lei dopo aver letto tanti libri e anche questo è importante perché l'amore è conoscenza, l'amore è saper governare il linguaggio leggendo tanto, quindi l'amore è cultura, dall'altro l'amore è natura, pochi libri, dice Rousseau, quasi niente. Le donne devono leggere pochissimo perché i libri possono, solo libri edificanti accuratamente scelti, infatti sempre a Eloisa gli dice esattamente quello che pensa Rousseau, pochi libri, questi pochi devono essere accuratamente scelti perché altrimenti potrebbero corrompere la... mentre la Marchesa ha letto tantissimo, nel romanzo si dice, in alcune lettere, adesso mi sembra nella 10 e nella 31 si parla appunto del fatto che lei, lei nei momenti, nei molti momenti della giornata si dedica alla lettura per imparare tanti linguaggi, per imparare tutti i modi di essere che le servono per esercitare il suo potere sui più deboli. Quindi c'è da un lato l'amore visto come conoscenza, come saper fare, come saper leggere gli altri, interpretare gli altri, dall'altra c'è la purezza dell'innocenza diciamo di coloro che vivono in contatto con la natura e quindi hanno, come dire, una visione molto più spontanea, anticipa il romanticismo. Quindi il romanticismo in questa spontaneità, in questo rapporto con la natura. L'altro libro invece è una chiusa del vecchio mondo. È curioso questo rapporto tra i due libri, no? Perché da un lato abbiamo appunto un libro che avrà un successo strepitoso, la novella Eloise avrà un successo esorbitante, è il libro che avrà più successo nel Settecento francese, il libro in assoluto che ha il più grande successo perché anticipa proprio il romanticismo, l'idea di natura e quindi c'è già questa sensibilità che si sta affermando e quindi lui intercetta, Rousseau intercetta questa sensibilità pre-romantica che si sta affermando appunto soprattutto nella cultura del nord Europa. Mentre la Clos chiude un'epoca, chiude la grande epoca, diciamo, dell'antico regime, la grande epoca degli ideali, chiamiamoli ideali se così si possono chiamare, della nobiltà. È la fine della nobiltà, vent'anni più tardi rispetto alla novella Eloise. La novella Eloise è l'avvio della borghesia. La borghesia ha una visione della parola molto più semplificata. Bisogna essere diretti, non bisogna usare perifrasi come faceva la nobiltà per nascondersi o per cercare delle vie alternative. Bisogna essere diretti. Questa comunicazione diretta è anche un modo pragmatico di ragionare. Bisogna essere pragmatici e quindi diretti. Ecco perché il romanzo di Rousseau usa un linguaggio molto più semplice rispetto al linguaggio che viene usato, per esempio, nell'Elie Zondage Rose. Ultima cosa, poi ripasso il microfono, è l'educazione. Come ha ricordato Simone Pagliai, tutti e due questi autori si occupano di educazione delle donne. Ho già detto di Rousseau. Per quanto riguarda la Clos, la Clos risponde negli anni Ottanta a una... all'epoca andava molto di moda da parte di, diciamo, di istituzioni pubbliche come l'Accademia di Digione per Rousseau, per esempio, a cui lui risponderà con i due discorsi famosi. Nel caso di la Clos lui risponde a un'interrogazione che viene lanciata per sollecitare il dibattito. Cioè quale sia il modo migliore per educare le donne? E la Clos accoglie, diciamo, questa sfida e risponde con tre scritti che in realtà vengono pubblicati solo nel 1904. Quindi si sono conosciuti molto tardi, sono rimasti inediti questi tre scritti e sono stati pubblicati all'inizio del Novecento sotto il titolo sull'educazione delle donne. E la Clos, in questi tre scritti poi riuniti con questo titolo sull'educazione delle donne, ha una visione molto diversa da Rousseau. Lui ritiene che le donne, diciamo, debbano essere educate perché per uscire, come dire, dalla loro subordinazione dovranno leggere, dovranno acculturarsi, ma bisogna trovare, come dire, una via di mezzo tra l'eccesso salottiero, che poi porta a depravazione come nella Marchesa, e dall'altra invece rinunciare all'educazione cattolica che è un'educazione repressiva per le donne. Quindi la sua visione è una visione, come dire, di equilibrio tra queste due tendenze, quella eccessivamente salottiera e mondana, che porta ad una esasperazione di questo potere della donna, e dall'altra però la sua libera espansione grazie ad un'educazione laica. Quindi vediamo che, sebbene lui rappresenti la vecchia nobiltà, in realtà fa un passo avanti rispetto a Rousseau, che invece ha una visione borghese, ma molto legata, come dire, al calvinismo, al protestantesimo svizzero da cui lui proviene, che invece vede la donna come subalterna all'uomo in questo mondo protestante. Mi sono dilungata troppo. No, no, Michela, anzi, grazie. Grazie per questa introduzione, perché io mi assumo il compito più prosaico di introdurci poi alla meccanica dei due romanzi, diciamo. Abbiamo visto che, come ci ha detto Michela, sono due, come ha detto Michela Landi, sono due, gli autori sono due persone legate, soprattutto nel caso di Laclau, che è legato a Rousseau, che ha scelto Rousseau come esempio anche perché era un romanziare di vastissimo successo. Aveva scritto quello che oggi sarebbe un bestseller, senza meno. Credo che gli stampatori non facessero in tempo a stampare i libri, tanta era la richiesta per Giulia alla nuova Eloisa. Mentre Laclau era un uomo d'azione, che è morto dopo la rivoluzione, ha partecipato, sebbene in posizione defilata, a molti degli eventi della rivoluzione francese, e invece Rousseau era un intellettuale quant'altri mai, che è morto prima della rivoluzione, quindi non ha visto gli esiti o un po' di quello che era anche stato il suo pensiero, la sua preparazione di quell'evento così fondativo anche per la nostra civiltà. Ora, con l'aiuto di Edi e di Cristina, entriamo un po' nei due romanzi, partendo in ordine cronologico da Giulia alla nuova Eloisa. E, diciamo, l'azione in questo romanzo prende le mosse da un amore, da un innamoramento di Giulia, che è la protagonista. Giulia è la figlia di un nobile svizzero, che si innamora del suo precettore, sempre, che però è un uomo non di legnaggio così alto, quindi è un amore che per la società è destinato a finire, secondo le regole della società. E quello che ci legge Edi, ora, è una delle prime lettere, della prima parte del romanzo, in cui credo che sia Sampre, il precettore, che, no, è Giulia forse, è Giulia, che parla di questo amore nascente, insomma, è il precettore, sì, ricordavo bene allora, è il precettore che parla Giulia di questo amore nascente, insomma, che li ha quasi colti di sorpresa e certamente li pone di fonte a grandi difficoltà. Edi, grazie, se vuoi, ti passo il microfono. Dimmi se ti sembra che te lo... Mia Giulia, quant'è commovente la semplicità della vostra lettera, come ci si rispecchia bene la serenità di un'anima innocente e la tenera sollecitudine dell'amore. I vostri pensieri si esprimono senza artificio e senza fatica. Comunicano al cuore una deliziosa impressione che uno stile ricercato non produce. Voi affermate invincibili ragioni con un tono così semplice che bisogna farci riflessione per sentirne la forza. E i sentimenti elevati vi costano così poco che si è indotti a scambiarli per pensieri comuni. Ah sì, senza dubbio tocca a voi regolare i nostri destini. E non è un diritto che vi concedo, è una giustizia che vi domando. La vostra ragione deve risarcirmi del male che avete fatto alla mia. Da questo momento vi affido per sempre il dominio della mia volontà. Disponete di me come di un uomo disponete di me come di un uomo che non è più niente per sé e la cui esistenza non dipende che da voi. State certa che manterò l'impegno che assumo. Qualsiasi cosa mi prescriviate. O diventerò migliore o voi sarete più felice. Dappertutto vedo la ricompensa della mia obbedienza. Vi affido dunque, senza riserve, la cura della nostra comune felicità. Fate la vostra e avete fatto tutto. Quanto a me, che non sono capace di dimenticarvi un solo istante né pensare a voi senza slanci che pur bisogna vincere, attenderò unicamente a quelle cure che mi avrete imposto. Dopo un anno che studiamo insieme non abbiamo fatto che letture disordinate e quasi a caso, più per provare il vostro gusto che per istruirlo. Peraltro il turbamento della vostra anima non ci concedeva alcuna libertà di spirito. Gli occhi mal si applicavano al libro, la bocca ne pronunciava le parole, ma l'attenzione era assente. La vostra cuginetta, non così preoccupata, ci rinfacciava la nostra disattenzione e si concedeva il facile onore di precederci. Insensibilmente è diventata il maestro del maestro e anche se talvolta abbiamo riso delle sue pretese, in fondo è la sola dei tre che sappia qualcosa di quanto abbiamo imparato. Per riacquistare il tempo perduto, ah Giulia, mai ce ne fu di meglio impiegato, ho steso una specie di piano che dovrebbe riparare col metodo il danno che le distrazioni hanno fatto al sapere. Ve lo mando. Fra poco lo leggeremo insieme. Qui mi limito a qualche leggera osservazione. Grazie. Grazie, Edi. E già in questa lettera ritroviamo molto di quello che ci ha detto Michela. La tensione verso la semplicità, forse, verso la naturalezza dell'amore. Ed è proprio questa tensione che crea forse il conflitto che dà origine alla trama del romanzo. Cioè due persone che sentono di volersi abbandonare a questo amore ma tutto quello che le circonda cospira a contrastarlo. Mentre è del tutto diverso sia il panorama narrativo sia il clima che c'è nell'altro libro. Cioè nelle relazioni pericolose. La lettera che ora ci tratta dal romanzo che ora ci leggerà Cristina è una lettera della Marchesa di Merteuil che è il deus ex machina di tutto il romanzo. E cioè il personaggio che trama a volte nell'ombra a volte meno nell'ombra per ordire gli stratagemmi, le strategie che formano l'ossatura del romanzo. E la scena che ci descrive questa lettera è questa. la Marchesa si vuole vendicare di un suo vecchio amante che si sta per sposare. E' questo l'esordio del romanzo. Non le è piaciuto come è stata lasciata e quindi sapendo che il suo ex amante si sta per sposare e sapendo con chi si sta per sposare vorrebbe rovinare la futura sposa che è un'educanda appena uscita dal convento grazie all'aiuto del Visconte di Valmont che è l'altro protagonista del romanzo che è un noto libertino che è stato suo amante in passato. E quindi gli scrive una lettera e gli espone e gli espone i suoi piani. E mentre prima abbiamo visto come diceva Michela tutto un tratteggiare l'amore in una maniera già pre-romantica e qui vedremo invece l'ordito di una trama quasi militare quasi una strategia più che amorosa militare e ce la legge Cristina le passo il microfono Ritornate mio caro Visconte ritornate si può sapere cosa fate che cosa potete fare in casa di una vecchia zia che ormai vi ha lasciato tutti i suoi beni partite subito ho bisogno di voi mi è venuta un'idea brillantissima e desidero ardentemente che siate voi a realizzarla queste poche parole dovrebbero bastare e troppo onorato della mia scelta dovreste correre a prendere i miei ordini in ginocchio ma voi abusate della mia bontà anche da quando non ne usate più e nell'alternativa tra un odio eterno e un'eccessiva indulgenza la vostra fortuna vuole che la mia bontà prevalga voglio dunque informarvi dettagliatamente dei miei progetti ma dovete giurarmi che da fedele cavaliere non vi imbarcherete in nessun'altra avventura prima di aver condotto a termine questa è degna di un eroe servirete l'amore e la vendetta sarà insomma una bravata in più da mettere nelle vostre memorie sì nelle vostre memorie perché io voglio che vengano stampate un giorno mi incarico io di scriverle ma lasciamo stare tutto questo e torniamo a ciò che mi interessa madame de volange sposa la figlia è ancora un segreto ma me lo ha confidato ieri e chi credete abbia scelto per genero il conte di Gercourt chi avrebbe mai detto che sarei diventata cugina di Gercourt sono furibonda ebbene non indovinate ancora come siete tardo gli avete dunque perdonato l'avventura con la moglie dell'intendente e io non ho ben più ragioni per lamentarmi di lui mostro che non siete altro ma io non mi agito e la speranza di vendicarmi rasserena il mio cuore sarete stato infastidito anche voi come me del resto centinaia di volte dall'importanza che Gercourt attribuisce alla donna che lo sposerà e della sciocca presunzione che gli fa credere che lui eviterà un inevitabile destino conoscete le sue ridicole idee sull'educazione dei collegi e il suo pregiudizio ancora più ridicolo a favore della riservatezza delle bionte infatti sarei pronta a scommettere che malgrado i 60.000 franchi di rendita della piccola volange non avrebbe mai fatto questo matrimonio se lei fosse stata bruna o non fosse stata in collegio facciamogli allora vedere che non è che un imbecille lo sarà senz'altro un giorno non è questo che mi preoccupa ma divertente sarebbe che cominciasse da lì perché si vanterà e se mai riuscirete a svezzare la ragazzina dovremmo essere ben sfortunati se Gercourt non diventerà come tanti la favola di Parigi tra l'altro l'eroina di questo nuovo romanzo merita tutte le vostre attenzioni è adorabile ha solo 15 anni ed è un bottoncino di rosa un po' goffa in verità ma niente affatto smorfiosa ma questo a voi uomini non fa paura inoltre ha un certo modo languido di guardare che promette davvero molto aggiungete che sono io a raccomandarvela non avete che da ringraziarmi e obbedire grazie Cristina e Valentina mi dicevi che c'è una domanda per la professoressa Landi sì allora ve la leggo subito una utente chiede possiamo guardare alle relazioni pericolose come a una complessa commedia degli inganni dove tutti amano ma nessuno ama l'oggetto del proprio desiderio per quello che è realmente ognuno si innamora della maschera dell'altro o della propria maschera è forse questo aspetto a rendere il romanzo così attuale tanto da ritrovare in esso le nostre relazioni di oggi grazie bellissima questa riflessione perché di fatto è una come dire una aggiunta e un approfondimento di quello che abbiamo detto l'idea della maschera è del tutto pertinente e bisogna pensare a una cosa diciamo questo aspetto della maschera è un aspetto che culturalmente in Francia come dire ha una sua solidità culturale perché la cultura aristocratica ha bisogno di maschere il mondo aristocratico è un teatro e per questo è come dire fa parte di quel mondo bisogna saper dissimulare per piacere all'altro bisogna mostrare all'altro un volto sociale che non è il nostro più intimo sentire e questo può sembrare qualcosa di perché noi bene o male oggi viviamo nel romanticismo cioè viviamo nelle conseguenze del romanticismo che valorizza con Rousseau la sincerità ma nel mondo diciamo ancien regime quindi nella nella cultura pre-rivoluzionaria nel il modello della corte era basato sulle maschere questo è una ragione per cui il teatro in Francia è così centrale nella cultura francese perché c'è una un'indagine diciamo delle personalità che è data da questo rapporto tra essere e apparire non c'è solo l'essere c'è l'essere e c'è l'apparire c'è diciamo per vivere in società io devo cedere qualcosa devo dimostrare qualcos'altro devo costruire una mia personalità sociale che non necessariamente coincide con il mio modo di essere quindi l'idea della maschera possiamo dire che è consustanziale al mondo dell'aristocrazia francese quindi questo romanzo è l'esemplificazione portata all'estremo naturalmente perché siamo ormai ad una critica c'è già stato Rousseau in mezzo quindi questo libro probabilmente non esisterebbe e lo vedremo forse fra un poco se non ci fosse stato prima Rousseau che ha messo in discussione quel mondo come unico mondo possibile adesso ci abbiamo una critica alla maschera quindi in qualche modo il mondo della maschera che sembrava essere l'unico possibile comincia a scricchiolare proprio perché quell'etica della sincerità sta in qualche modo affermandosi con il pre-romanticismo la sensibilità russoiana è verissimo che come dice la persona che ha presentato questa riflessione molto bella è verissimo che fa pensare diciamo all'attualità ma nel senso in cui l'amore è sempre uno schermire l'amore non è diciamo come dice Lacan grande psicanalista l'amore è un gioco estremamente complesso è il più raffinato il più complesso gioco diciamo tra le personalità nell'amore entrano in gioco negoziazioni narcisismi feriti entrano in gioco tante schermaglie non è affatto naturale l'amore l'amore è il più complesso e artificiale dei sentimenti come dicono gli psicanalisti quindi io credo che in qualche modo la psicanalisi quando ha portato come dire fuori la complessità del soggetto ha messo il dito nella piaga cioè ha rivelato una falsificazione romantica che l'amore sia spontaneo l'amore nasce da un immaginario nasce da una complessità della psico-umana che è fatta anche di una simulazione simulazione e dissimulazione talvolta io ho bisogno di dissimulare perché in quel preciso momento la mia come dire il mio bisogno di mostrarti qualcosa che non sono per ottenere magari un bene superiore a quello che in quel momento al quale io aspiro quindi l'amore è molto più complesso e non credo che sia soltanto una caratteristica della contemporaneità è il modo di essere come dire delle relazioni interpersonali che creano questa complessità grazie di questa domanda che era veramente molto bella molto stimolante se posso costruire su questa domanda stavo riflettendo mentre tu parlavi abbiamo due romanzi ma forse anche due strumenti di conoscenza siamo nel secolo nel settecento francese che è forse il secolo del romanzo filosofico accanto a questi due romanzi forse si possono definire romanzi filosofici in un certo senso ma certamente ce ne sono altri che contemporanei più o meno come romanzi di Voltaire di Diderot perfino di Sade in un certo senso che trattano il tema dell'amore insieme a tanti altri sono strumenti di conoscenza e costruendo sulla domanda che ti è stata fatta a proposito delle maschere sembra quasi che il romanzo di Rousseau voglia togliere la maschera all'amore e però poi chi è interessato a leggerlo magari se ne renderà conto questo voler togliere la maschera crea una serie di peripezie molto complesse che creano che danno adito anche a diciamo alla creazione da parte di personaggi di un mondo che forse era quello immaginato da Rousseau per tutti che è la comunità per esempio di cui tu parlavi in cui vivono i due innamorati contrastati il marito legittimo dell'eroina la cugina dell'eroina che si inserisce in questa specie di triangolo eccetera eccetera quindi togliere questa maschera che dovrebbe essere una semplificazione dell'amore in realtà scatena una serie di peripezie che lo ricomplicano mentre il romanzo di Laclau vuole spiegare la maschera cioè non vuole toglierla dice queste sono le maschere dell'amore e forse è così ambiguo come per esempio è ambiguo il principe di Machiavelli nessuno sa se sono consigli per diventare cattivi o se sono le istruzioni per difendersi dai cattivi e rimane così vivo e ambiguo un po' come le relazioni pericolose allo stesso modo e sono entrambi in un certo senso due libri di strategia l'uno politica e l'altro e l'altro amorosa ma anche l'amore come ci spiegavi è una specie di attività politica in un certo senso ecco questo mi chiedevo ti volevo chiedere questi due romanzi nella prospettiva di vederli come due strumenti di conoscenza e tanto più utili quanto più i personaggi sono vivi in questi romanzi non sono semplicemente diciamo delle figure che servono a dei discorsi teorici sì certo quello che è interessante in questo caso è la conoscenza soprattutto della figura femminile perché nel caso di Rousseau Julie è certamente la protagonista femminile del romanzo eponima perché nel titolo insomma lo troviamo il nome naturalmente nel titolo siamo diciamo nel secolo in cui ci si pone il grande problema anche dell'educazione delle donne e quindi vediamo che in questi due romanzi abbiamo due modelli di donna uno che è Julie che rinuncia al suo bene più grande che è l'amore per questo per il suo precettore che la ama in ritorno in cambio per rispondere a un ideale più grande di lei cioè questa società che Rousseau ha concepito per lei cioè lui ha deciso in qualche modo che lei deve stare dentro questo sistema più ampio quindi deve rispondere deve rinunciare all'eros quindi al suo desiderio di fanciulla diciamo così e lei in qualche modo risponde a questo come dire a questa necessità superiore che è la costruzione di questa società quindi per volontà del padre sposa quest'uomo amico del padre monsieur de Volmar che diventa come dire il padre buono una sorta di divinità di dio che presiede a questa comunità e dispone e decide che cosa si fa dentro questa comunità quindi è una sorta di occhio generale panoptico come si dirà nell'ottocento che controlla tutto e dice tu fai questo tu fai questo e all'interno di tutto questo sistema dice Rousseau bisogna che tutti vogliano fare quello che fanno quindi bisogna fare in modo ecco l'idea sociale la grande utopia russoiana è che tutti desiderino fare quello che stanno facendo che non sia più un ordine che viene da fuori ma tutti devono aver interiorizzato questo imperativo cioè io voglio fare quello che sto facendo no? e nel caso di La Clos la Marchesa in qualche modo è la prima donna che è protagonista ma non passiva è protagonista attiva del romanzo questa è una grande novità nella tradizione letteraria perché per la prima volta una donna costruisce un sistema di relazioni di cui lei è veramente il come dire il manovratore no? che poi la si voglia considerare naturalmente perversa perché manipola questi personaggi e gioca con i sentimenti naturalmente poi viene punita perché poi bisogna ristabilire un certo ordine ma rimane comunque una figura interessante dal punto di vista dell'educazione bene quindi giustamente non ci frapponiamo e quindi ecco c'è questa novità che questa donna ha un ruolo oltre che di protagonista attivo perché lei la manovratrice di tutto questo sistema e quello che colpisce nel romanzo è che a un certo punto nella sua lettera nella lettera diciamo tra virgolette confessionale che mi sembra la lettera 31 che è anche la più lunga fra l'altro lei si racconta racconta il suo percorso educativo al Visconte e gli dice io sin da piccola non volevo amare volevo sapere volevo conoscere l'amore è conoscenza non è sentimentalismo non è purezza di cuore è conoscenza quindi questa donna in nome di questa conoscenza dice io leggo ho sempre letto e ho saputo sin da piccola che dovevo costruire questo mio sapere per poter vivere e per poter essere protagonista della mia vita quindi siamo proprio in una visione opposta opposta curiosamente però questa visione opposta parte da un fascino che Laclau prova nei confronti del grande Rousseau perché dice Rousseau ha visto un mondo corrotto e ha deciso di costruirne uno ideale dice Laclau questo è interessante da un lato abbiamo l'idealismo di Rousseau che inventa una società ideale dove tutti sono trasparenti l'uno all'altro e vivono in questo amore collettivo diciamo una grande idea di comunità dall'altra il realismo alla Machiavelli chiamiamolo pure così un realismo in cui vediamo proprio le maschere in scena nella loro massima diciamo evidenziazione perché in effetti c'è una esagerazione c'è un'iperbole diciamo un'esagerazione di questa rappresentazione delle maschere proprio perché secondo me queste maschere stanno cadendo cioè si stanno mostrando nel loro eccesso in vista di una loro definitiva capitolazione ormai siamo vicini alla rivoluzione francese e il modello Rousseau diventerà il modello preponderante quello della borghesia trasparente della borghesia operativa della borghesia sentimentale diciamo così quindi quel mondo tra virgolette artificiale rivela la sua artificialità la sua artificiosità anzi diciamo ancora più in una prospettiva di fine di un percorso storico che sarà sostituito presto da un altro sistema di valori quindi credo che questi due romanzi siano complementari proprio come diciamo la guerra e la pace tra virgolette ma ancor più l'idealismo e il realismo questo realismo che poi diciamo verrà superato mentre l'idealismo di Rousseau lascerà diciamo come eredità la borghesia la borghesia che impara a controllare le pulsioni per un bene collettivo perché in fondo è questo che fa la grande borghesia impara a gestire la proprietà privata risparmio diciamo dei miei desideri per un bene che è diciamo una società pacifica o quasi pacifica o comunque mira a questa pacificazione comunicazione di servizio visto che abbiamo sentito l'annuncio della biblioteca credo che chiuderemo tra un quarto d'ora quasi quarto d'ora e quindi prendendo l'abbrivio da questa descrizione della Marchesa io vorrei leggere a Cristina la lettera che la Marchesa scrive alla vittima principale delle sue macchinazioni che è l'educanda che sta a presposarsi e che lei riesce con una regia piuttosto complessa a corrompere e in questa lettera si rivolge direttamente a lei la Marchesa che come dicevi la Marchesa dei Mertel che forse è la protagonista assoluta del libro ancora di più del visconte di Valmont delle relazioni pericolose e per cui forse leggendo a volte si finisce perfino per fare il tifo per quanto sia un personaggio certamente negativo ma perché mostra come dicevi in diverse fasi del romanzo una specie di orgoglio nel riuscire da donna a controllare quello che allora era un mondo di uomini in sostanza dominato dalla forza che le compete lei è una donna diciamo aristocratica l'aristocrazia ha sempre più potere quindi è una donna non dimentichiamo che è una donna aristocratica le donne aristocratiche avevano un grande potere dentro il sistema della corte perché godono di questo prestigio che è quello aristocratico una donna del popolo chiaramente non avrebbe potuto farlo quindi anche bisogna tener conto anche del suo della sua naturalmente estrazione sociale che le dà quella relativa libertà e anche educazione l'educazione che spetta alle donne diciamo aristocratiche che comunque hanno l'agio di leggere e di acculturarsi poi lo farà anche la donna borghese ma la donna borghese poi avrà naturalmente leggerà anche molti romanzi d'appendice Cristina grazie grazie ebbene piccola eccovi arrabbiatissima tutta vergognosa e questo monsieur de Valmont è davvero un uomo cattivo no? come? osa trattarvi come la donna preferita vi insegna quello che morivate dalla voglia di sapere davvero questi modi sono imperdonabili e voi da parte vostra volete conservare la vostra onestà per il vostro innamorato che non ne abusa voi dell'amore amate solo le sofferenze non i piaceri niente di meglio sareste benissimo in un romanzo passione disgrazia e virtù per giunta quante belle cose tutti questi brillanti ingredienti in verità qualche volta annoiano ma fanno sempre il loro effetto guardate come è da compatire questa povera bambina il giorno dopo aveva gli occhi pesti e che direte quando lo saranno quelli del vostro innamorato su angelo mio non li avrete sempre così non tutti gli uomini sono dei Valmont e poi non osare più alzare quei belli occhi ma forse avete avuto ragione tutti vi avrebbero letto la vostra avventura però credetemi se facessero tutte così le nostre signore e perfino le nostre signorine avrebbero uno sguardo più modesto malgrado le lodi che come vedete sono obbligata a farvi bisogna ammettere tuttavia che non avete recitato fino in fondo il vostro capolavoro dovevate dir tutto a vostra madre avevate cominciato così bene vi eravate già gettata fra le sue braccia singhiozzando anche lei piangeva che scena patetica peccato non averla condotta a termine la vostra tenera madre estasiata per aiutare la vostra virtù vi avrebbe rinchiusa in convento per tutta la vita e là avreste potuto amare Don Senni quanto avreste voluto senza rivali e senza peccato avreste potuto disperarvi a vostro piacere e Valmon senz'altro non sarebbe venuto a turbare il vostro dolore con inopportuni piaceri ma adesso parliamo sul serio è possibile a 15 anni passati essere bambina come siete voi avete perfettamente ragione a dire che non meritate la mia bontà eppure volevo essere vostra amica forse ne avete bisogno con la madre che vi ritrovate e col marito che vi si vuol dare ma se non vi sveltite un po' che volete che si faccia di voi che cosa si può sperare se ciò che aguzza l'ingegno delle altre ragazze sembra toglierlo a voi se riusciste a ragionare un momento capireste subito che dovreste rallegrarvi con voi stessa invece di compatirvi ma vi vergognate e questo vi imbarazza eh mia cara state tranquilla la vergogna che nasce dall'amore è come il dolore fisico che provoca lo si prova una volta sola dopo si può ancora fingere ma non lo si sente più tuttavia il piacere resta ed è già qualcosa grazie e forse il brano che ci leggerà adesso Eddie è forse proprio l'opposto è Saint Preux che dice a Giulia sto a Parigi ma sono tutti un po' finti hanno tutti una maschera e non sono non sono onesti come te proprio desideri o Giulia che ti dipinga queste amabili parigine orgogliosa che sei mancava ancora questo maggio alle tue bellezze con tutta la tua finta gelosia e la tua modestia e il tuo amore in questa curiosità mi pare si nasconda vanità piuttosto che paura comunque sia sarò veritiero lo posso e lo sarei ancora più volentieri se potessi lo dare di più perché non sono cento volte più affascinanti perché non hanno vezzi a sufficienza per tributare un nuovo onore ai tuoi ti lagnavi del mio silenzio santo cielo cosa ti dovevo dire leggendo questa lettera capirai perché mi piaceva parlarti delle vallesane e perché non ti parlavo delle donne di qui è perché quelle mi richiamavano continuamente a te e queste leggi poi giudicherai peraltro pochi pensano come me delle donne francesi anche se non sono del tutto solo ad averne questa opinione giustizia vuole che te lo dica subito perché tu sappia che io le dipingo non forse come sono ma come le vedo tuttavia se sono ingiusto con loro sgridami pure così sarai anche più ingiusta di me perché è tutta colpa tua sanno acconciarsi così bene o per la meno ne hanno così ferma la fama che in questo come nel resto sono modello al resto d'Europa davvero anche se non ti possono portare con più gusto vestiti più strani di tutte le donne sono le meno schiave della loro stessa moda la moda domina le provinciali ma le parigine dominano la moda e sanno piegarla ciascuno a suo proprio vantaggio quelli sono come dei copisti ignoranti e servili che copiano persino gli orrori d'ortografia queste invece sono autori che copiano da maestri e sanno raddrizzarne le cattive lezioni vestono con ricercatezza più che con magnificenza con più eleganza che ricchezza la rapidità delle mode che da un anno all'altro invecchiano ogni cosa il gusto della pulitezza per cui si cambiano molto spesso le preservano da una ridicola sontuosità non che spendano meno ma spendono meglio invece di vesti stupende e rammendate come in Italia si vedono qui abiti più semplici sempre freschi una stessa moderazione regna nei due sessi la stessa delicatezza cosa che mi fa molto piacere non mi piace vedere né macchie né galloni non c'è proprio salvo il nostro dove le donne in modo particolare portino meno stoffe dorate sempre gli stessi tessuti in tutte le condizioni e si faticherebbe a distinguere una duchessa da una borghese se quella non avesse l'arte di trovare certe distinzioni che queste non osano imitare il che non va esente da una certa difficoltà perché qualsiasi moda si adotti a corte immediatamente quella moda è imitata in tutte è imitata in città le cittadine di Parigi non sono come la provinciale o le straniere che sono sempre alla moda di ieri e non va qui come altrove dove i più potenti sono anche i più ricchi così che le loro donne si distinguono con un lusso che le altre non possono imitare se le dame di corte si mettessero su questa strada subito sarebbero eclissate dalle moglie dei banchieri grazie ora passo il microfono il tempo sta per finire purtroppo come spesso accade sul più bello però passo il microfono a Michela per farla concludere come meglio crede su questi due romanzi di cui forse a parte poi le teorizzazioni che se ne fanno intorno si può credo ancora oggi consigliare la lettura senza meno è una lettura che si può fare senza grande fatica perché sono due romanzi congegnati molto molto bene sì io chiuderei mettendo in relazione proprio due realtà due spazi geografici che sono anche due spazi culturali che sono stati adesso evidenziati dalla lettura da un lato abbiamo la Svizzera di Ginevra il mondo ginevrino russo era appunto non abbiamo messo bene in evidenza questo aspetto ma lui cambia la Francia dal suo punto di vista di uomo tra virgolette protestante calvinista la sua morale calvinista si oppone alla morale tra virgolette cattolica parigina per questo lui poi rompe con tutti gli illuministi naturalmente e propone un altro modello un contromodello naturalistico che si oppone invece a un modello più culturale più urbano che è quello degli illuministi dei Voltaire dei Diderot quindi abbiamo come dire la sua realtà che è una realtà nata dentro la Svizzera il suo mondo naturale cioè questo mondo ideale che è circondato dalle montagne dai Jura mentre Parigi per lui è il luogo della corruzione è il luogo della perversione è il luogo della mondanità eccessiva e quindi qui abbiamo proprio due mondi che si oppongono l'uno contro l'altro mentre Laclau mette in evidenza questa mondanità eccessiva Rousseau l'aveva già condannata in qualche modo quindi Laclau non sarebbe esistito secondo me il romanzo di Laclau lui stesso lo dice in molti punti anche della sua corrispondenza se non ci fosse stato un Rousseau che avesse mostrato avesse messo in evidenza questa diciamo esasperazione delle maschere proprio a confronto con questa esigenza di trasparenza che Rousseau stesso dal suo mondo mostrava alla Francia parigina diciamo grazie Michela sempre un piacere ascoltarti grazie per averci illuminato su questi su questi due libri grazie Edi grazie Cristina per le letture dell'associazione a voce alta che ci ha aiutato e grazie della biblioteca Nuova Isolotto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti